Amici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti a una nuova puntata del TG Comics, la rubrica settimanale all'incirca, che vi aggiorna su tutto quello che è uscito nella fumetteria o nei dintorni all'incirca, perché molte cose escono anche in edicola, libreria, bla 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 bla. Allora, con occhio molto ciecagnoso, come nelle puntate scorse, mi accingo a farvi vedere una montagna, una montagna di roba. Innanzitutto volevo però ringraziarvi perché le scorse puntate sono andate molto bene con le visualizzazioni, con i like, di cui vi ringrazio sempre immensamente, perché è un gesto da parte vostra che ci gratifica. Tutto qua, molto 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 semplice. Che cosa vi volevo dire? Sì, un'altra montagna di roba ragazzi, non posso far altro che accelerare, sempre per motivi di tempo, perché devo scappare e anche in questo giro la risoluzione sarà più bassa, perché ci metto meno a caricare di dare. E voi mi perdonerete, però vi aggiorno, vi dicevo appunto molte visualizzazioni, il video con la presentazione della Panini DC addirittura ha superato le 2000 visualizzazioni e appunto grazie ancora, grazie ancora, grazie ancora, grazie ancora. Iscrivetevi se non vi siete mai iscritti, se i social sapete quali sono, condividete il video e il verbo del TG Comics. Molto molto bene, a questo punto gli vado con un paio di bonelli, gli vado. Abbiamo un Daryl Zed nuovo, eccolo qua, il numero 5 e dovrebbe essere il primo disegnato da Werther dell'Edera, cerchio chiuso, Werther che ce l'aveva annunciato appunto sempre in quella famosa live che potete andare a recuperare sul canale, abbiamo fatto un sacco di cose in quella live con Werther e abbiamo, 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 sempre a soggetto sceneggiatura qui Tito Faraci, disegno e copertino a Werther Werther dell'Edera e ci vediamo un po' del lavoro del nostro amicone Wertherone. I disegni che sono sempre al golzino? Vediamo un attimo. Eh sì, colorazione e quarta copertina Sergio al golzino, salutiamo anche Sergio, che anche lui è un nostro amichetto. Il prezzo eh tre euro e cinquanta, dovrebbero essere sei se non mi ricordo male, tanto ormai è bagenata e negatamente tante. Tex invece arriva al settecento quindici, l'odissea della Bell Star a tre euro e novanta, copertina molto molto bella, mi piace e all'interno ci troviamo, ah ogni volta e vuotico, mi prenderete per scemo ma c'è Corradino Mastantuono, tra altre cose, insomma, soddisfazione personale, l'altro giorno su Instagram ho visto Corrado Mastantuono ti segue, grazie Corrado, non lo merito. Ennesimo grandissimo Tex. Io adesso, vediamo se finisce su questo numero, fine dell'episodio, adesso me lo posso leggere tutti e due insieme, dico me li posso leggere ma in realtà non c'ho tempo, ma me li devo leggere, me li devo leggere. Sono riuscito ad andare anche un po' avanti a Once in Future, a questo punto ringrazio pure e saluto più che altro il mio amico Fabio Palazzetti che so che se l'è accattato anche lui. Qui abbiamo Mr. No, vi ho fatto vedere subito all'interno perché sono rimasto colpito da questi disegni, da paura. Il Kangaseiro Fantasma, Kangaseiro qua di Litfibiana Memoria, scusate ma mi piace citare un po' le contaminazioni musicali mie, sicuramente non da Mr. No, che al Kangaseiro ci avevano molto prima. Il numero 12 delle nuove avventure, 3,90€ ragazzi, ma devo dire i disegni dietro sono da paura. Soggetto e sceneggiatura Luigi Mignacco, un'altra figura storica della Bonelli, disegni Massimo Cipriani e Marco Foderà. Ah, c'è il Foderà che ogni tanto vedo i suoi disegni su Twitter eppure lui ci dilizia con il suo tratto fantastico e qui appunto insieme a Massimo Cipriani. Bello, bello, bello quest'albo. Mi sta facendo salire come si dice la scimmia e da Mr. No passiamo a Zagor perché abbiamo Dark Food Novels e albo da 3,50€ agli occhi del destino. Andiamo a vedere un pochino dentro. Abbiamo soggetto e sceneggiatura Moreno Burattini e disegni di Giovanni Freghieri. Ah, un'altra figura che dovremmo conoscere molto molto bene, non solo amici, fan lettori di Dylan Dogg, perché insomma ha firmato un sacco di storie stupende di Dylan e Bonfreghieri, ma ce lo ritroviamo anche su questo Dark Food Novels, molto molto bello. Dal 27 giugno sarà in Eticola e anche da noi il numero 2. Benissimo, non poteva mancare, anche se in leggero ritardo, anche il 405 del Bon. Dylan Dogg, eccolo qua, il nuovo corso 666, prezzo sempre 3,90€, la storia è di Roberto Recchioni, almeno per questo primo ciclo lo sappiamo tutti quanti molto bene, disegni Giorgio Pontrelli e Corrado Roy. Ritorna Roy. Giorgio Pontrelli mi perdonerà se faccio vedere prima qualcosa di buon corrado. Eccolo qua. Oh, mi ho fatto vedere un Dylan senza barba. E tra visto anche qualche altra cosa che è comparso però in maniera molto chiara sul profilo di Roberto Recchioni e non, cioè su tutti i social, la copertina del 406. E tutti quanti dovremo capire perché nella copertina del 406 ricompare Graucio. Eh? Question mark? Che cosa avrà architettato Roberto? Eh, non ce lo so. Faccio un altro po' di risegni Giorgio Pontrelli che ci piace assai. Fine parentesi bonelliana, rimaniamo col formato bonellide, poi giuro passano un po' di manga. Formato bonellide all'incirca, eh? Eccolo qua, il Marvel integrale con gli X-Men di Chris Claremont che arriva al numero dieciotto. Bene? Prezzo sempre quattro euro e novanta. E come avrete visto si sono buttati su questo formato anche per la neonata Panini DC presentandoci il Batman di Snyder e Capullo. Ecco qua, questo formato va molto molto bene. Abbiamo detto un po' di manga. La Planet Manga ci porta il nuovo numero di Grand Crest, Record of Grand Crest War. Eccolo qui, quattro euro e novanta, il numero sette. Storia originale di Ryo Mizuno, manga di Makoto Yotsuba con character design di Miyu. E vediamo qui un pochino dell'interno. Eccolo qua. Non è male, eh? Non so com'è la storia, ma a livello artistico mi sembra molto molto valido. Attesissimo, vendutissimo, novità e arretrati, non gliela si fa, stai appresso. Eccolo qua. B-Stars numero quattordici. Anche qui mi riprometto sempre di vedermi la serie televisiva. E appunto mi manca il tempo. sette euretti volume con sovracoperta. Eccolo qua. Opera di Paru Itagaki. E poi, e poi, oh, ecco qua, stavo cercando di fare una cosa omogenea con tutta Planet Manga. Abbiamo Killing Morph numero quattro. Prezzo sette euro. Fumetto per adulti. Sovracoperta. E qui c'è solo il volto. Un lato del volto. Vediamo dietro a sto punto se c'è quell'altro. E infatti dietro c'è quell'altro. Ma che spettacolo. L'ho detto, sette euro. Horror splatter da far gelare il sangue. E vediamoci qualcosa dei disegni che si possano mostrare. Ecco qua. Non sembrano male, eh? Sembrano abbastanza interessanti. Anche qui, artisticamente mica Mario. Poi, poi, poi. Eccolo qua. Altra Planet Manga. Gunslinger Girl numero nove. Eccolo qui. Nono di quindici volumi. Abbiamo ampiamente superato la metà. Eccolo qua. Sovracopertinato anche lui. Tale quale. Facciamo vedere l'incipit a colori. E dentro c'è qualche altro colore? No. Però questo è quello che potrete trovare all'interno. Opera di Yu Aida. Aida come sei bella. Marino Gaetano. Kengan Ashura. Numero nove. E qui partono i vizzoni. Sette euro. C'è l'anime su Netflix. Volume con Sovracoperta. E questi sono i disegni. Pista qua. Pista là. Parabonsi. Ponsi pa. Oh no. Non è finita qui perché abbiamo una tripletta con Domestic Girlfriend numero sedici. Prezzo cinque euro e cinquanta. Opera di Kei Sasuga. Mentre non ho detto l'autore di Kengan Ashura perché abbiamo la storia di Yabako Sandrovic e Do Romeo. Ai disegni. Domestic. Eccolo qua. Un successo continuo. Continua. Continuo che continua. Più cacofonico di questo. A crescere. Diciamo a Ina di noi. A dirglielo. È un po' come le pare. Poi abbiamo Ultramarine Magmel. Arriva al numero sette. E anche qui si sparge la voce. È arrivato ad essere un bel mammocchietto. 4,90 euro. Bello grosso. Cicciottello. Il fumetto anche qui che è ispirato l'anime che sta su Netflix. L'opera è di Di Nian Miao. È un po' gattaro. Un autore un po' gattaro. E poi ristampissima. Attenzione. Non sono un angelo. Eccolo qua. Di Ayazawa. Questo è il fumetto che ha lanciato Ayazawa nel mondo del manga giapponese fino a portarla poi all'ultra mega successo di Nana. E non solo perché ricordiamo pure anche parata di skis eccetera 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 eccetera. 7,90 euro. Volume con sovracopera. Ecco. Sono i disegni all'interno di Non sono un angelo. E via. Lo si può recuperare adesso tranquillissimamente. Mi ricordo che all'epoca lo pubblichavano perché lei se ne vergognava una cifra. Almeno lessi lessi da qualche parte. Ripassiamo. No. Facciamo un interludio con Johnnifer JPEG. Eccolo qua. Del buon Sio. E il problema dei tre corgi. Il nuovo fumetto game di Sio a ridosso dell'estate. Giustamente. Eccolo qua. 16 pleuropodi. E passa la paura e anche il tempo. Ci si può impegnare. Sarà sicuramente l'ennesimo successone di Sio. Poi il secondo numero di Iron Man 2020. Passiamo un po' di spillati Marvel. Eccolo qui. Sarebbe il numero 84. La vecchia numerazione. Slot Gage Woods. La rivolta delle macchine. Tre euretti con una storia dell'aprile 2020. Quindi l'altro ieri. e vediamoci un po' dei disegni. Eccolo qua. E via. Molto molto bene. Si prosegue con il nuovo numero di Venom. 23. Che qua a Roma ha un grosso significato. Vecchia numerazione. 40. Speciale 56 pagine. 6 euros. Il bravo figlio. Kate Buckley. Thompson. Neves. Gedeon. Per un totale di tre storiellone. Venom Island parte 2. The Good Son. E The Putrefaction of Telcar. Storie tutte del marzo 2020. Ho beccato una splash page. Eccola. E poi. un altro pochino. E qui. Colori. Dinamismo. C'è un po' di tutto. Si prosegue. Si prosegue. Con il secondo numero di X-Men. più Fantastici 4. Sarebbe un Marvel miniserie 3-3-2. Eh scusi. 2-3-2. Prezzo. Eh. 3 euro. Zarsky. Dotson. Dotson. Martin. Quindi c'è la coppia dei Dotson. Eh. Storia del maggio 2020. Broken Borders. Ed ecco qua. I plasticissimi disegni che trovate all'interno. Se io riuscissi voi a sfogliare per bene. Potreste anche apprezzarli in miglior modo. Ma sono riusciti a beccare due pagine introduttive e di pubblicità. Poi. Il quinto numero degli X-Men di Jonathan Nickman. Eccolo qua. Eh. Sarebbe il numero 3-6-6. 5 euro. Qui c'è Giant Sides X-Men viene presentato. Jean Grey più Emma Frost. Andiamo a vedere all'interno. Ickman, Douterman e Wilson. E infatti abbiamo Into the Storm da Giant Sides X-Men del 2019. Jean Grey e Emma Frost numero 1. Eh. Cioè la serie che cominciava nel 2019. Eh. Ma l'albo è dell'aprile 2020. Ecco qua il contenuto. E ormai sto cominciando a rimanere indietro pure con questi. Complimenti a me. Mi batto le mani da solo. Arriva l'Amazing Spider-Man. Eccolo qua. 39 con vecchia numerazione 748. Spencer Coelho, Saks Castiello. Abbiamo J.J.J.J.J.J.J.J. e il nostro Spider-Man. Ultime notizie. E questo è il contenuto. E ce la posso farcela. Ecco qua. Un'altra paginetta. Da mostrarvi riccamente. Si prosegue con il 2 del nuovo corso di Deadpool. Copertina di Chris Baceilo. Sarebbe il 153 della vecchia numerazione appunto Thompson Baceilo. Elsa Blotstone è a caccia di Wade. 5 euro con due storie dentro del marzo e dell'aprile 2020. Untitled e Untitled. E qua sono state chiamate come re dei mostri parte 2 e parte 3. Questi sono i disegni di Chris. E io lo adoro quindi non ci posso far niente. Vediamo se riesco anche a aprire qualche altra paginozza. Eccolo qua. E alla via così. Si prosegue. Altro spillatone. Captain America numero 19. Kurtz, Master, Queen e Wernick. Sì l'ho detto bene. La Driade è svelata 3 euro. Storiellona dell'aprile 2020. La leggenda di Steve parte 7. Bentornati da parte di Carlo del Grande che scrive l'editoriale. Noi ci spostiamo un po' più avanti e occhiamo l'interno. E qui come sempre vado sulla pubblicità. Starbi troppo piccoli sono insfogliabili coi guantini. Fantastic Four numero 19. La numerazione è sopra il 400. Infatti il 404. Bello palindromo. Causa Yancy Street. 5 euro. Duggan North, Smallwood, Bagley e Ui. Con due storie. Ottobre 2019 e poi si salta gennaio 2020. Con For Yancy Street e What are the Fantastic Four. Questi sono i segni all'interno. Gioco di parole. Parole Fantastic Four. E dai. Niente. Ho preso pure una pagina così. A buffo proprio. Botto dei spillati ragazzi. Avengers numero 20. 124 vecchia numerazione. Avengers versus Haraldi. Aaron McInnes. 5 euro. Due storie. Tutte e due del marzo 2020. E ci spezziamo anche qui all'interno. Mi pare di scorgere un Silver Surfer. Solstice. E questo è il contenuto. Chiudo con gli spillati promesso promesso con. Anche qui un nuovo ciclo ed è quello di Thor. Post Jason Aaron. Eccolo qua. Thor biondone che tanto scalpore ha suscitato. Un nuovo e luminoso inizio. Araldo del tuono. 5 euro. Cates e Klein. Se l'arte è un martellone così volante. C'è una storia. The Devourer King Part 1. The Black Winter dal Thor numero 1 del marzo 2020. Devourer. 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 Album che comunque come disegni. Eh non è niente male po'. Piacere o meno questo zio Thor ma. Staremo a vedere poi la storia. 5 euro ve l'ho detto. E si chiudono qui gli spillati. Torniamo un po' di manga. Abbiamo Love Stage numero 2 per J Pop. Prezzo 6 euro e 90. E abbiamo sovraccoperta. E colore. Via. Vediamo qualche altra cosa nell'interno. Questi sono i disegni. Storia di Eiki Eiki e Art by Taishi Tzau. Via. Innocent. Attenzione. Questo è il Rouge. Rouge volume 11. 6 euro. Sempre J Pop. Sempre sovraccoperta. Opera di un autore mi piace molto. Shinnichi Sakamoto. Guardate che spettacolo dentro. È molto chiaro ma. A questo tratto veramente glamoroso. Beddu 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 beddu. Ci piace. Poi abbiamo. Oh. Bokemono Katari. Eh. come dicevo sempre Riccardo pre-lockdown. Numero 4 per la Star Comics. Storie di Nisio Sin e Art di Ogureito. Volume con sovraccoperta. Mamma Star Comics e disegni da paura. disegni da paura. Lasciatevelo dire. Il letto numero 1. Vorrei andare avanti. Chi lo sa. Poi. Eikos. Attenzione. Ritorna Kei Sambe. Numero 3. 5 euro e 90. Anche qui abbiamo sovraccoperta. Un po' di colore. Si ripercuote anche all'interno. Direi di no. però il suo tratto è inconfondibile. Eh. Molto bello dalla torre di Erased. Ah. Guardate un po' che pummammanga. Eh. Questo è un grosso pummammanga. Sempre da Star Comics. Super cartonato. 16 euro e 90. Abbiamo Giorgionium numero 4. Eh. guardate che spettacolo. Andiamo ad aprire un pochino anche all'interno. Vi ce lo voglio far vedere proprio proprio bene. Ah. Ebbene. Quando le cose sono fatte bene. Sono fatte bene ragazzi eh. Andiamo a vedere. Ah. Eh. Va gustato proprio alla perfection eh. botto le pagine. Bella stampa. Eh. Mica male. E qui ci troviamo. Battle Tendency. Vediamo se c'è qualche altra cosa di colorato dentro. Ecco. Guardate qua. Beh. Bombissima eh. questo è un volume veramente che vale. Vale proprio la pena. Poi per J Pop abbiamo Radiant numero 12. Ricordate il passaggio di casa. La manga senpai a J Pop. Eccolo qui. A J Pop prosegue. Con la sua solita qualità. Volume con sovracoperta. Vedo anche del colore. ma forse ce n'è pure altro. Non si limita solo a questa pagina. Infatti. Ce n'è altro. Eh. Ma io non lo so in Europa com'è la qualità di di certi manga eh. Se raggiungono la bellezza di alcune edizioni italiane. Non lo so. Non lo so. Detective Conan arriva numero 97. Immarcescibile. che lo definirei. Eh. L'opera di Gosho Aoyama. Infinita. Eh. Certo che mi dico per arrivare a 97 numeri. De fantasia. Ce n'è tanta eh. Cioè. Non so se lui si affianca a un team creativo o fa tutto quanto lui a livello di concessione delle storie. Buh. Fairy Tail New Edition numero 46. Quattro euro e trenta. Sempre Star Comics. E stavolta è un volume con alette. L'aletta e non è non sovracoperta ma l'opera di Iromashima. Dovreste conoscerla molto 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 bene. Un altro manga poi si ricambia. Dash Capay. Gigi La Totola numero 7. Perfect Edition. 8 euretti. Ci vediamo la sovracoperta. Anche a sto giro. E dentro c'è del bel colore con il nostro gigione. Il trottolone. Vediamo un po'. E vabbè anche altro colore pure qua. E beh mica male. Rock da noboru. O noboru rock da eh. Che comunque dei cose fighi ne ha scritte e svariate. Non solo questa. Poi un cartonato interessantissimo. Abbiamo il cinema purgatorio. Eccolo qua. Ci siamo visti le edizioni brossurate. Qui arriva il cartonato a 22 euro. Ragazzi. Eccolo qua. Un'allucinata metafora della decadenza dell'industria dell'intrattenimento dalla coppia che ha creato la lega di straordinari. Gentlemen. Eh? E quindi abbiamo Alan Moore e Kevin O'Neill. Ecco qua. Vediamo un po' dell'interno. E via così. Poi vedo un altro cartonato mucion interessante perché parliamo di Eric Powell. Eccolo qua. Abbiamo The Goon. Eccolo qua. Contiene The Goon del 2019. Le storie dall'1 al 4. Quindi è robetta nuova. Il titolo è Un cencioso ritorno all'Only Street. Tutto tutto l'opera di Eric Powell. E ci vediamo anche un po' del contenuto. Eric Powell. Autore molto molto amato anche in Italia. C'è da dirlo. Linea Panini 100% HD. Ho detto il prezzo 16 euro. Forse non l'avevo detto. Poi spillato c'è ma non è super eroistico. Abbiamo Star Wars numero 60. Il prezzo è 5 euro. Gillen Unzueta. Duello all'ultimo sangue. Con ben due storie. Una da Star Wars 59 e una da Star Wars 60. E ci vediamo. L'albo. Comunque contiene sempre robetta le qualità. Pubblicità e becco sempre. Ma ormai è diventato un segno distintivo. Ecco un po' di produzioni Panini DC che attendevate dopo l'esordio della scorsa settimana. Abbiamo Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Scritta in leggera sola impressione. Stavo guardando questo. Il Bambino d'Oro The Golden Child. Eccolo qua. Con Frank Miller e Raphael Grampa. con Jordi Belair. Albo di cui parlavamo già dalla prima intervista con Roberto Orecchioni qui al Forbidden un botto di tempo fa. Ecco. Il volume che lui era piaciuto tantissimo. Io non ho letto la storia in inglese ma devo dire che graficamente Grampa è un mostro. Un mostro vero. Leggiamo qualcosa. Il mondo è sull'orlo dell'apocalisse e Gotham City ha bisogno ora più che mai dei propri eroi. Ma stavolta a salvare la situazione che sembra disperata ci sono Kerry che indossa il mantello di Batman e Lara la figlia di Clark Kent e con loro Jonathan un bambino dal potere quasi inimmaginabile. 5,90€. Non so perché ma a metà che andrà via. Come il pane. Ed ecco qui l'altro volume Panini DC. L'anno del criminale. Attenzione. Eccolo qua. Ci abbiamo avuto l'albetto gratuito. Promozionale. 14€. Volume 1 di 2. E contiene The Joker. Year of the Villain 2019 numero 1. Black Mask. Year of the Villain numero 1. Sinestro. Year of the Villain 1. E The Riddler. Year of the Villain numero 1. Quattro super cattivi alle prese con l'anno del criminale. Quando Lex Luthor presenta i propri sinistri doni ai super criminali dell'universo DC dandoli via all'anno del criminale le vite di alcuni super cattivi cambiano per sempre. Il Joker reagisce alla propria maniera diventando ancora più cattivo e imprevedibile. Maschera nera rivolge le proprie attenzioni criminali a racket più remunerativi e meno rischiosi con esiti ancora più pericolosi. Sinestro diventa uno strumento per evitare la riscossa dei buoni e l'enigmista è spiazzato dal fatto di non ricevere alcun dono. Da un gruppo di grandi creatori che comprende il famoso regista George Carpenter la cosa è Halloween. E infatti abbiamo Carpent and Birch, Taylor, Russell, Tan, Amner, Cinar e Godleski, famose Uncinar, cover di Philip Tan, il dono di Luthor e all'interno vediamo un pochino se c'è qualche cosa. C'è una bella intro. Eccola qua. Quindi continuano gli editoriali appunto le storie sono quelle che abbiamo detto. Tutto materiale che va dall'agosto all'ottobre del 2019. Vediamoci un pochino le matite di Philip Tan. Belline eh? Mica male. Molto molto interessante questo albo. Il prezzo è 14 euro. Mi sembra più o meno della fattezza è un po' più grande di Once and Future e Something is Killing the Children ma il prezzo è lo stesso. Forse qualche pagina di meno non lo so però mi sembra all'incirca similare. Ecco questi albi ha un prezzo così e sicuramente hanno una grossa presa sul pubblico. Qui abbiamo un bel mammozzone, la Young Justice, una delle prime cose annunciate. Eccolo qua. Jam World, Bendis, Gleason e Tim's Wonder Comics ragazzi. 17 euro e ci sono sei storie. Contiene proprio la Young Justice del 2019. Dall'1 al 6. Di nuovo insieme. Bendis e l'artista Patrick Gleason ci ricordano perché sin da subito abbiamo amato questi personaggi. E di per sé questo vale il prezzo del biglietto. Sei belle storiellone. Con un botto di roba dentro. Ecco qua. Anche qui la sete di lettura di sì questo giro potrà essere soddisfatta. Poi abbiamo un bellissimo cartonato. Guardate un po' che bello. La storia definitiva dell'universo Marvel dalle origini ai giorni nostri e oltre 27 euro. La storia dell'universo Marvel e il più grande racconto a fumetti mai narrato. Fatemi levare un attimo la fascetta. Wade e Rodriguez. Faccio vedere la sua interezza. 27 euro e contiene sei storie. History of the Marvel Universe del 2019 dall'1 al 6. Eccolo qua. Mark Wade e Rodriguez ci offrono una fresca entusiasmante di tutte le vicende a fumetti che hanno scandito gli anni di 80 anni della casa delle idee. Segreti oscuri e scioccanti rivelazioni uniscono decine... eh sì buonasera. Segreti oscuri e scioccanti rivelazioni uniscono decine di trame passate a presenti. La più grande storia mai narrata e osservata prima d'ora. E questo è il contenuto. Mi piace aprire con questa shialk ci sono capitato. E guardate che bello. Un botto di cose interessanti. Vedo qua. Ah ma c'è proprio un botto da legge. Proprio c'è. Molto molto bello questo volume. Migarba. 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 E poi abbiamo Marvel Comics number one. Eccolo qui. Edizione ottantesimo anniversario. Anche questo 27 euro. Ce l'andiamo ad aprire. Vediamo un attimo la sovracoperta ma è uguale. Lo stesso all'interno. Nel 1939 Marvel Comics 1 presentò al mondo la torcia umana, il Submariner e altri personaggi. Aprendo la strada a quello che un giorno sarebbe diventato l'universo Marvel. Per celebrare l'ottantesimo anniversario di questa pietra miliare del fumetto vi presentiamo l'albo completo. Sia come fu pubblicato in origine che interamente rimasterizzato con le più avanzate tecniche di colorazione. Alla torcia in amor si uniscono l'eroico vigilante noto come l'angelo vendicatore, il pistolero western musket rider e la star della golden age dei pulp. Kazar. La classica copertina dell'albo prometteva azione, mistero e avventura e anche dopo otto decenni mantiene le sue promesse. Questo volume include anche delle storie in retrospettiva della torcia, illustrazioni bonus, saggi dettagliati e altro ancora. Questi sono super volumi da collezione. Guardate che bellezza. molto molto bello e curioso insomma anche per chi vuole studiare la storia, la storia del fumetto. Si prosegue con The Forgotten Queen, la regina dimenticata per l'universo Valiant, da Star Comics, 8,90€, in amore e guerra tutto è lecito. Le antiche leggende narrano di una strega che marciava insieme al Gran Khan delle orde mongole e che poteva infettare il cuore di qualunque guerriero che le si avvicinasse con un'inistinguibile sede di battaglia e di sanque. Una antica seminatrice di guerra, sto ridendo perché c'è Andrea di là che mi fa le facciacce e ride come un facoccio, però vabbè. E ora quella regina dimenticata cammina di nuovo tra gli uomini, una saga di onore, amore e barbarie attraverso i secoli. Tiny Howard, Amil Carpina e Ulysses Apreola, o Arreola, Arreola, ci vedo proprio? Ecco qua questo volume Valiant, sicuramente più bello di come ve lo posso aver presentato io. Poi, sempre per Star Comics, eccoli qua i cartonatini di Conan, questi sono molto molto belli, eh? 14,90€ e abbiamo Chiodi Rossi, dal racconto di Robert E. Howard, Régie Autier, Olivier Vatin e Didier Cassegrain. Mamma, che ho detti proprio tutti, che ho detti proprio... Madonna che bello dentro. Bellissimo. Vabbè, che spettacolo, ragazzi. Ma molto molto bello, eh? Ecco il perché del loro successo, veramente stupendi, curati nei minimi dettagli, graficamente ineccepibili, belli belli belli. Ritorniamo un po' di manga, abbiamo Marginal numero 3 di Moto Agio, eccolo qua, volume 3D3, 12,50€. J-Pop, sovracopora, sovracopora. Ecco questi sono i magnifici disegni all'interno. Via così. Poi, abbiamo ReZero, Starting Life in Another World, numero 7, la novel, 12€. Sempre J-Pop, sempre bel volume con sovracoperta. Si sovra e si coperta. Anche con del colore dentro. Però poi è un bel libro. Jerenia! Eccolo qua, i classici del fumetto numero 12, se un giorno la terra. Eccolo qua, 12,90€ è diventato più ciccione degli altri. È l'opera di Hermann. Assolutamente da non perdere. No, assolutamente. Bellissimo fumetto che ha fatto. La storia del fumetto. Poi abbiamo Mac lo straniero di D'Antonio e Tacconi, per i grandi maestri dell'editoriale Cosmo. 7,90€. Eccolo qua. Il prossimo mese si dedicano a Roberto Baldazzini. Guardate che bello. Tacconi ha un segno grafico veramente inconfondibile. Inconfondibile. 7,90€ di Durali Cosmo. Poi, ci deliziano con un nuovo Savage Dragon, il 7 della ristampa di Durali Cosmo. 19,90€. Contiene Savage Dragon dal 27 al 33 del nostro Eric Larson. Ci sono mostri e mostroni. Un numero un po' più scuro, devo dire. Qua compare anche The Max, che all'epoca era una delle testate di successo con la quale aveva esordito all'incirca la Image. L'opera di Sam Keith. Poi, il nostro amichetto Lorenzo Palloni esce per Feltrinelli insieme a Martoz con Terra Nera. Ecco, anche in questo caso, se andate un po' indietro nel tempo, le prime live, tra le prime live del TG Comics sotto quarantena, c'è anche una bella chiacchierata insieme a Lorenzo Palloni e tanta altra gente. Mi pare che c'era il Momo, c'era Dili. Veramente molto, molto, molto interessante. E qui è uscito il suo nuovo libro. 16€. Da due giovani maestri del fumetto italiano, una storia che si muove tra le pieghe di un paese lacerato e mai prima d'ora così buio. Volume con sovracoperta. Devo dire, l'edizione è veramente ultra curata. E questi sono i disegni veramente fantastici di Martoz. Sono molto curioso, Lorenzo, di leggerla. Poi, come ci scappa un po' di tempo, ci facciamo quella chiacchieratina che ci eravamo ripromessi. Sempre con molto, molto piacere. Bel, bel, bel volume. E anche un bel tometto ce n'è di pagine da leggere. Molto interessante e mi sento già di consigliarvelo da subito. Poi, finalmente, è arrivato il cartonato di Zardo, da una sceneggiatura di Tiziano Sclavi. Ci ha messo le mani sopra il buon mammucari ai pennelli. Ed ecco qua il prodotto che esce. E dobbiamo solo che andare a scoprirlo. Il prezzo è 19 euro. Edizione Variant a tiratura limitata. Un omicidio, un corpo da occultare, una notte senza fine. Dalla penna di Tiziano Sclavi, un racconto fulminante, affilato come una lama, magistralmente illustrato da Emiliano Mammucari. Chi è Zardo? Una domanda semplice che annica inesorabilmente nella complessità dell'incubo. E poi, dello stesso formato, bello Giant Giant, andiamo a chiudere con il secondo volume di K11. E qui troviamo Matteo Casali e Luca Genovese, volume secondo appunto, prezzo 16 euro. Spizziamoci un pochino dell'interno. Eppure qua, colori sgargiantissimi, disegni molto molto belli. Ci leggiamo un po' della quarta di copertina. Qualcosa è cambiato. La decisione di Karl ha impresso al misterioso progetto Zaroff una pericolosa accelerazione dagli inattesi effetti collaterali. E ora il suo corpo racchiude un po' aeree che sfugge ogni comprensione. Molto interessante e curiosissimo. Quest'oggi vi ho rubato sicuramente molto 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 meno tempo. 37 minuti contro i 49.50 della scorsa puntata. Spero che comunque abbiate apprezzato questa vetrina sul fumetto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri social. mi trovate anche su Instagram sotto lukeseventeto. Oppure avete la pagina Facebook di TG Comics, del Forbidden Planet Roma, sia su Instagram appunto che su Facebook. Potete condividere questo video. Mi farebbe anzi molto piacere. Vi chiedo di lasciare un like se volete. Perché appunto come vi dicevo all'inizio del video ci fa molto 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 piacere. Nell'info box vi lascio il link anche al negozio online che abbiamo su Manga Comics Market. Potete contattarci sempre sui social per avere la vostra spedizione e per ordinarci le vostre serie preferite. Oppure potete seguire i link di affiliazione qualora non avesse una fumetteria nelle vicinanze. Credo di avervi tutto quanto. Le battaglie sono tante. Viene avanti Drugo Gigante. E che c'è per i merlo. Vegli sempre su di voi. Ciao.